Ancora tre giorni per poter aderire ad un'offerta esclusiva sul sito di Niba, 10% di sconto sui migliori titoli del 2022, il codice lo vedete qui a schermo, tutte le info invece le trovate qui sotto in descrizione. Ci siamo ragazzi, seconda stagione con il Palermo qui su Football Manager 2023, sta per iniziare quindi un nuovo capitolo, una nuova avventura con il Rosa Nero in Serie A perché nello scorso episodio abbiamo raggiunto finalmente la tanto attesa promozione nella massima divisione del calcio italiano. Prima di iniziare presentazione della Rosa con il calcio mercato fatto, poi però un altro avviso che riguarda le live. Io vado tutti i giorni in live su Twitch, a partire dalle 14 questa carriera viene portata interamente live, infatti quello che vedete poi su YouTube non è altro che un editing di una live che dura circa diciamo due ore. Non è solamente il Palermo ad essere protagonista su Twitch, assolutamente no perché porto anche altre carriere, altre challenge ma anche altri giochi, in questi giorni appunto inizierò anche a portare FIFA. Quindi mi raccomando come sempre tutte le info, inutile dirlo, le trovate qui sotto in descrizione. Direi quindi di partire con la presentazione del mercato fatto con il Palermo e successivamente vi lascerò tutto quello che abbiamo passato in live. Ragazzi, buona visione! Partiamo dal presupposto che non era facile, non era scontato fare così tanti acquisti. Sappiamo delle difficoltà del Palermo, sappiamo che è una squadra che non ha una reputazione tale da poter diciamo così in qualche modo invogliare i giocatori a venire da noi. Cosa molto importante, quella della reputazione, dei risultati, come poi è finita anche la stagione passata perché può essere fondamentale poi nella scelta di un giocatore se accettare o meno un determinato progetto. Perché può essere un progetto ambizioso quanto vuoi, ma ambizioso nella nostra testa, nel gioco comunque tutto questo viene calcolato con dei valori che vengono chiaramente poi determinati dai risultati. Quindi diciamo che la PIL del Palermo sicuramente crescerà nel corso di questa nostra prima stagionina, qualora poi soprattutto dovessimo rimanere nella massima divisione, qualora magari dovessimo anche così sognare in grande e raggiungere addirittura un posto per l'Europa. La vedo dura, però insomma vedremo. Nonostante le difficoltà nel fare mercato abbiamo comunque preso diversi giocatori e un 11 titolare, un 11 secondo me competitivo c'è. Voi vedete 10 milioni, però bisogna guardare le clausole. Ci siamo mossi in due direzioni, prestito con diritto di riscatto e acquisti con comunque delle rate, con dei pagamenti che non vengono fatti subito, ma vengono poi effettuati o a fine della prossima stagione o con rate semestrali. Nel caso di Bettella che ha giocato con noi nella passata stagione abbiamo deciso di confermarlo. Il Monza riceverà 4 milioni e 100 mila euro giugno 2024 e qualora Bettella dovesse giocare 34 partite con noi 425 mila euro. Difensore giovane classe 2000 abbiamo deciso di confermarlo. Alla fine si tratta dell'unica conferma che abbiamo fatto su giocatori che avevamo in prestito nella passata stagione. Conosce il Palermo, l'anno scorso non è stato praticamente una partita e quest'anno secondo me può fermarsi in Serie A. Oscar Bob e l'affiliazione col City. Ritorno a un discorso fatto pochi minuti fa a quello riguardo la reputazione. Allora, in questo momento l'affiliazione col City non ci sta portando molti vantaggi. Sì, la solita amichevole che ci porta diversi soldi, ma ne possiamo fare solamente una nel corso della stagione perché poi in tutte le altre occasioni il City rifiuta puntualmente, non vuole giocare con noi. Per quanto riguarda i prestiti, ragazzi, è davvero molto complicato. Per quale motivo? Perché il City è disposto a dare in prestito i suoi giocatori, però nel più delle volte non li dà gratuiti, ma devi comunque pagare. Siamo bene che Bob non è uno dei più forti del settore giovanile City, ma giocatori come ad esempio Stefanovic, tanto per fare un esempio, non accettano di venire al Palermo. Il City accetta la proposta di Rosa Nero, ma quando poi questa proposta viene presentata al giocatore, il giocatore rifiuta perché non crede nel riuscire a crescere, a trarre qualcosa di buono con un prestito appunto ai Rosa Nero. Uno Stefanovic cambierebbe sicuramente idea qualora il Palermo dovesse andare in Europa, perché lì poi la situazione cambia e vede poi, nel rosa Nero, una squadra in cui fare esperienza, ma anche in cui potersi affermare non solo in Serie A, ma anche nel calcio europeo. C'è sì un diritto di riscatto, ma non sarà minimamente applicato né per Oscar Bob e nemmeno per James McCarty. Sono loro alla fine i due colpi, i due acquisti che abbiamo fatto dal City, due giocatori presi in presto. McCarty decisamente più d'utile, giocatore che può svolgere più ruoli, a differenza di Bob, che lo vedo sinceramente bloccato lì sulle fasce. Per quanto riguarda invece il talento inglese McCarty, è un giocatore che nel nostro modulo lavorerà fisso in mezzo al campo, nel ruolo di centrocampista centrale, una appunto delle due mezzali. Chiuso il capitolo prestiti, parliamo di Lorenzo De Silvestri, una rima un po' così, che non è una rima, ma vabbè. Lorenzo De Silvestri, secondo molti, è un giocatore finito. Nonostante 35 anni, comunque presenta una scheda che non è affatto male. A fine stagione lascerà il mondo del calcio, la scheda sta comunque mostrando un calo, soprattutto nelle fisiche. Quando raggiunge una certa età le fisiche sono le prime qualità che vanno un pochino così a mancare, a calare. Ma nonostante tutto, secondo me, è stata un'ottima operazione, perché comunque porta esperienza in una squadra che non ne ha. Non ne ha, si tratta di uno dei pochissimi giocatori over 30, che secondo me, insomma, soprattutto per una neopromossa, sono fondamentali. Rimaniamo sempre a parlare della difesa con Gabbia. Prestito con costo futuro, opzionale. Ma Gabbia, attenzione, perché è un'operazione che potrebbe portare delle sorprese. Cioè sì, quel costo che avete visto, quel diritto di riscatto, ma il giocatore attualmente, in lista trasferimenti, ha una cifra inferiore. Praticamente la metà di quanto poi noi dovremmo pagare. Chiaramente noi siamo legati comunque a un accordo col Milan. Questo accordo, però, possiamo anche non rispettarlo e cercare poi di raggiungere quella cifra. Se il giocatore dovesse rimanere in lista trasferimento anche al termine della stagione, noi possiamo tranquillamente aspettare la scadenza naturale del prestito. Il giocatore rientrerebbe al Milan e poi andremo appunto a trattare nuovamente quei rossoneri, pagarlo meno e magari appunto raggiungere proprio la cifra di 3,7 milioni di euro. Un rosa nero a 360 gradi, Antonino Gallo, luogo di nascita a Palermo, preso dal Lecce. C'erano tante le alternative, abbiamo pensato anche a Valera, abbiamo pensato anche ad altri profili, ma come sempre la reputazione fa tanto, soprattutto poi quando si mettono di mezzo altre società un attimino più importanti. Per Gallo, invece, non c'è stata nessuna guerra. Abbiamo preso questo giocatore, secondo me, discreto, fa il suo, non è eccezionale sicuramente, ma rispetto alla stagione passata, insomma, il salto di qualità mi sembra abbastanza evidente. Qui non c'è nessun prestito, ma bisogna semplicemente pagare quasi 3 milioni a luglio 2024. Su Gomez, in realtà, è un'operazione che è già stata effettuata da diverso tempo. Lucca torna a casa. Lucca torna a Palermo, nella società che in qualche modo lo ha lanciato. L'ha fatto conoscere e ha fatto così innamorare il Pisa, che l'ha preso. E poi, insomma, sappiamo tutti poi come è andata a finire. In questo momento Lucca gioca in Olanda. Qui nel gioco non è stato riscattato dall'Ajax, è tornato a Pisa. L'abbiamo preso a una cifra veramente ridicola, 3,7 milioni. Non ho mai speso così poco per Lucca. Sono sincero, avrei voluto un attaccante più rapido, più veloce, ma nessuno ci vieta di poter migliorare questo ragazzo nelle fisiche, cosa che stiamo già facendo. Di sicuro non diventerà velocissimo, non diventerà come Mukoko, come Nketiao, come tantissimi altri giocatori e attaccanti molto rapidi, ma ci siamo assicurati, insomma, le prestazioni di un vero e proprio talento, di un giocatore che anche quest'anno sembra essere veramente un gran bell'attaccante. E finalmente su YouTube vi posso poi raccontare le gesta di Lorenzo Lucca, cosa che non abbiamo effettivamente mai fatto, perché Lucca l'abbiamo allenato solamente due volte nella passata stagione. Queste due volte, appunto, in live. A proposito di talenti, ragazzi, Simone Paffundi. Qual Udinese vuole guadagnare? Qual Udinese vuole guadagnare? Udinese guadagnerà intanto quasi un milione se noi dovessimo rimanere in Serie A. E poi avremo appunto la possibilità per poterlo riscattare a 7 milioni. Diciamo che noi siamo a gennaio. La scheda di Paffundi credo che sia già migliorata. Se andiamo su progressi probabilmente vedremo delle qualità che sono aumentate, diverse, tra fisiche, mentali e tecniche. E qui non le state vedendo, anche perché non voglio spoilerarvi troppo, perché qua, ragazzi, siamo proprio in un video davvero speciale. Però è un po' il nome del momento. È un giocatore che ne parlano molti. Io, curioso, nella passata stagione non c'era, c'era suo fratello. E siccome noi cercavamo appunto un'alla invertita che potesse lavorare sulla destra, abbiamo detto, beh, insomma, siamo a una neopromossa. Non abbiamo chissà che obiettivi. L'importante per ne salvarci, Paffundi-Palermo è un matrimonio che si può assolutamente fare. Collezionerà diverse presenze e partite nella nostra Serie A. Nonostante la giovanità abbiamo deciso appunto di lanciarlo subito. Lo spoiler è inevitabile, ma quel numero di assist, insomma, è già importante per avere solamente, ricordo, 17 anni. C'è però appunto un costo elevato, ma è un diritto, non è un obbligo. Così come appunto non lo è questo obbligo per Pinero. Riserva di De Silvestri. Da una parte abbiamo un giocatore che sta per abbandonare il calcio, dall'altra invece abbiamo un giocatore, trampolino di lancio, vede in questo Palermo, che vuole così convincere quel porto a puntare su di lui, ma non è un prestito secco. Come abbiamo detto c'è appunto una possibilità per poterlo riscattare. Chiudiamo con il miglior colpo, perché Radonic per me era presente il miglior colpo. Preso a parametro zero perché alla fine il Torino ha deciso di non prenderlo. Poteva, ma alla fine poi hanno cambiato idea. Avete visto però una clausola. 20% al prossimo trasferimento potrebbe andare a Radonic. Ragazzi è stato difficilissimo trattare con la gente. Molto complicato. Anche perché, e mi sono anche così stupito, sorpreso, c'erano anche altre squadre su di lui. Però guardando la scheda, guardando tutto ragazzi, stiamo parlando del miglior giocatore del Palermo che abbiamo in squadra. Del miglior giocatore che vediamo in questa carriera. Adesso poi i vari look capafondi nel tempo sicuramente potrebbero superare senza problemi le qualità di Radonic. Preso non solo anche per delle ottime caratteristiche, non solo per delle ottime qualità, ma anche soprattutto per la duttilità che offre. Perché questo giocatore può stare là davanti, può stare sulla tre quarti, ovunque. Ed è quello che abbiamo fortemente bisogno, perché comunque ragazzi, la rosa del Palermo è davvero molto, molto, molto corta. Lucca punta, sì. Stiamo già lavorando anche poi su allenamenti individuali. Ad esempio appunto su Pafundi stiamo lavorando su movimento offensivo e il ruolo all'invertita. Non su tutti gli allenamenti individuali, solamente su alcuni. Bettella ad esempio aveva messo difensore che imposta. Lucca lo stiamo allenando da centravanti e un focus su movimenti d'attacco. Poi forse anche Gabbia, un Gabbia esatto difensore che imposta, focus aggiuntivo sui passaggi. Ma inoltre poi noi avevamo una vecchia impostazione che avevamo messo nella passata stagione, che era il cross al centro, appunto per sfruttare le qualità di Brunori, di Zazza. Adesso le qualità di Lucca, che sono molto più interessanti, possono portarci davvero molti gol. Qui manterrei i cross misti, non andrei ad aggiungere i cross bassi. Qui è stata una prova, quella del dribbler di meno creatività, ma evitiamola. Non mi ha, diciamo, portato chissà che risultati. È stata una forzatura messa in Coppa Italia, ma in realtà la eviterei. Molti potrebbero non essere d'accordo sui colpi che abbiamo fatto, molti magari avrebbero preferito portare più gente di esperienza, però per come ho ragionato io, un giocatore come Lucca va benissimo. E meno male che l'abbiamo preso definitivamente. Lo stesso lo possiamo dire anche per Bettella. Perché sono due giocatori che quest'anno speriamo possano aumentare il proprio valore, migliorare la propria scheda e che nella prossima stagione rimarranno comunque da noi. Perché non andranno via. Però, cosa potrebbe succedere poi in una prossima stagione? In base anche a quanto ho fatto in questa stagione, la prima stagione in A, potrebbero essere la chiave per poterci poi permettere di fare un mercato più tranquillo. Quindi, prendere invece un giocatore che ha superato i 30 anni, magari ti manda sì in una buona posizione di classifica, ti permette sì di salvarti con tranquillità, però poi prossima stagione di nuovo punta a capo perché non lo puoi vendere e devi nuovamente fare un mercato con grosse difficoltà. Quindi, diciamo che da un lato sono contento di avere Lucca, me lo godo, dall'altro, però sono già proiettato, pronto, anche a salutarlo, a sacrificarlo per far stare più tranquillo del Palermo nella prossima stagione. Io, ve lo dico, tutto bello, ma se si spacca uno o due giocatori è finita, è finita. Chiaro che sono anche contento di iniziare la prima partita contro il Monza in casa. Monza, che comunque è una buona rosa, vero, ma non è una grandissima. E soprattutto noi abbiamo la titolare già a disposizione. Pensate se avessimo magari iniziato contro, non so, appunto, una Juve, la seconda magari partita con la Roma, cioè, inizi già a perdere punti perché a fronte delle squadre è molto difficile, poi magari vai avanti nelle partite più facili ti ritrovi una squadra mezza rotta, quindi siamo anche stati in parti fortunati col calendario. Sono in realtà anche contento di come è stato così formato questo calendario per il Palermo. Il centro d'arte a disposizione, come sempre, bisogna aspettare tre partite, però abbiamo la formazione. Questo sicuramente sarà appunto 4-3-1, solito modulo di De Zerbi che continuo a utilizzare anche in Inghilterra. È una bella squadra, è una bella squadra, è un attaccante d'esperienza, ha Dani Mota che mi piace molto, le due fasce mi fanno impazzire, soprattutto quella occupata da Birindelli. Adesso però voglio un attimo vedere chi mettere come regista arretrato, perché io vorrei comunque provare, però non l'abbiamo, è pazzesco, avevamo Stulaz, adesso quel giocatore non c'è più, quindi Gomez effettivamente è l'unico momentaneamente diciamo più adatto per ora a lavorare in quella zona di campo. Andiamo con l'esordio, sì, come ho detto la novità di questa stagione sarà rappresentata dalle imbucate, sinistra-destra, per il resto non abbiamo modificato altro, quindi in campo per la prima ufficiale di Lucca, Paffundi, Radonici di tutti i nuovi arrivati del nuovo Palermo stagione 23-24, forza ragazzi! Guarda il Barbera, come è pieno, ma il Barbera quanta capienza ha? 30.000? O qualcosa di più? Guardiamo poi anche gli abbonamenti, quest'anno noi comunque cercheremo anche di fare, ottenere dei buoni risultati anche per portare più gente poi allo stadio. Colpani, intanto Ciurria, dovrebbe essere in posizioni fuorigioco? No, regolare, allora Carlos Augusto, Paffundi in qualche modo, dovrebbe rubare il pallone, il pallone che arriva comunque in mezzo, per Petagna c'è il gol. Qui non bene, troppo facile il lavoro di Augusto, di Augusto sulla pressione da parte di Paffundi, due tiri in porta per parte, però uno di questi il Monza è riuscito a concretizzarlo. E attenzione perché abbiamo già diversi ammuniti, Lucca intanto, Saric, pallone largo per Paffundi, la dormita di Carlos Augusto, Paffundi, vediamo se riesce a approfittarne il pallone dietro per Saric che potrebbe andare a calciare, ci prova, Caldirò la polla lontana, De Silvestri, possesso ancora da parte del Palermo, pallone sulla fascia sinistra dove c'è Radonic, buono anche il controllo, e allora va a servire Gallo, palla in mezzo, Lucca, controllo! Lorenzo Lucca! Fa così, fa così, fa così, e la Lucca Toni uno a uno, grande Lorenzo Lucca, la prima di tante soddisfazioni, gioie con la maglia del Palermo. Poi sappiamo che come ho detto questo potrebbe essere mister sacrificio, mister grande sacrificio poi per la stagione tre, perché già lo so, già immagino, Caldiròle intanto, Caprari, gran lavoro da parte di Caprari, poi però Ciurria dorme, bravissimo De Silvestri a andargli rubare il pallone, dietro poi per Bettella, con calma adesso il Palermo, Bettella, Saric, ecco il lancio sulle fasce, dove puntuale, Radonich, si appoggia sempre a Gallo, palla in mezzo per Paffundi, Lucca di testa, Lucca, 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 di nuovo, fortunato questa volta, fortunato Lorenzo Lucca, questo giocatore ragazzi veramente pazzesco, cioè tu dici, allora, cioè, probabilmente davvero il fatto che sia grosso, alto, e guarda lì, non deve fare niente, in realtà, insomma, non deve fare niente, qua fanno gattoni caldirola, gattoni caldirola che si impegnano per non spazzarla, per non allontanarla, Lucca a quel punto dice, vabbè, io la butto dentro se posso, allora, di sicuro in mezzo al campo toglierei i contrasti duri, su Gabby li lascerei, mi spaventa, su Gallo, Lucca non dovrebbe avere i contrasti duri però, esatto, Lucca solamente il deliberare di più, il tirare di meno, adesso che abbiamo Lucca, probabilmente anche il deliberare di più, lo possiamo togliere, Pafundi, corner, Lucca, mamma mia, mamma mia, siamo già innamorati di Lucca, siamo già innamorati di Lucca, Lucca veramente alla Luccatoni, alla Luccatoni, 3-1, che giocatore, Caldirola, attenzione però, Mancuso, pallone per Petagna, Lucca 3, Petagna 2, ma giocate voi, non lo so, finisce qui la prima partita di Serie A, Palermo 3, Monza 2, come abbiamo detto, Lucca 3, Petagna 2, troppo è destinata all'estero, e si spera che poi all'estero possa giocare, altrimenti se lo tiene l'Atalanta, attenzione, Monza, Cribio, Adriano, facciamo pure la carità, oh, e vedi, e vedi, ah, che bello, Ronaldo Camarà, Camarà prestito gratuito, completamente, la solita sample, non è cambiato assolutamente nulla, utilizzano appunto i due mediani, quando si parla di 4-2-3-1 su FM, si parla sempre ormai di mediani, non più di centrocampisti, perché l'IA pare che sia diciamo, incentrata su questo, nel senso che non ho più visto un modulo dall'intelligenza artificiale con due centrocampisti, tanta quantità, tanta quantità, ha poca qualità lì in mezzo, però tanta qualità invece sulla tre quarti, dare chance a Camarà, Camarà dietro al posto di Gomez, lo teniamo lì dietro, in campo quindi con questa formazione, andiamo al Ferraris, e vediamo di portarci a casa altri tre punti, anche se qui, sinceramente per me, non sarà così scontato, Gabbia, arriva prima Collei, poi Radonich, controllo di Radonich, il pallone in mezzo, no, rimane fermo, e niente, fatto un saltello, poi palla che viene allontanata, ma già recuperata De Silvestri, può avanzare, sull'alto di destra, De Silvestri, si ferma, l'appoggio poi per, Camarà, Camarà, così, dal Monza, questo si gode fortissimo col gol di Camarà, perché non paghi niente, non paghi niente, paghi solo il biglietto per vedere la partita, Ronaldo Camarà si presenta così, il Monza, che chiede di farlo giocare in una posizione più offensiva, probabilmente questo è il motivo, gran tiro dalla distanza, però da noi farà il regista, e basta, parte Gallo, Saric, Radonic, di prima per Segre, buon giro palla a questa parte del Palermo, Paffundi, poi di prima per Lucca, che viene fermato per l'ultimo da Ugello, ancora dietro per Rincona, di impostare, sbaglia il lancio per Sabiri, con coraggio Bettella, qui però potevamo essere, stare un attimino più tranquilli, più sereni, invece, abbiamo restituito Pallaldoria, e allora adesso è De Paoli che avanza, De Paoli teso, Gabbiadini gol, 1-1, meritato, l'errore in realtà nasce da Bettella, e il gol di Gabbiadini costa invece, sì, Gabbiadini costa, costa tanto alla Samp, Gabbia allontana, attenzione perché può esserci la ripartenza a Palermo, situazione di 2-2, Paffundi, in realtà adesso però hanno recuperato i blu cerchiati, Paffundi però, cambio, dove c'è Saric, abbiamo spazio adesso per attaccare sulla sinistra, invece si va centralmente, dove c'è Lucca, 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 mamma mia, non ne sbaglia una, Luccatoni, 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 veramente tanta qualità questo Palermo là davanti, qui bravissimo Lucca, Glaciale là davanti, perché in realtà a questo punto credo che, oh, intanto Gabbiadini, cosa si è inventato, cosa si è inventato Manolo Gabbiadini, gran punizione questa, doppietta, personale per Mr Sorriso Manolo Gabbiadini, che gol, mentre stavamo commentando là il posizionamento di Camara, di Gomez, vai con gli ultimi 4 minuti, il recupero segnalato al Ferraris, finisce qui 2-2, alla fine quello che mi aspettavo, quello che desideravo, poi sai, desideri sempre di vincere, però guardi un attimo in faccia alla realtà, e alla fine dici che un punto al Ferraris contro la Samp, tutto sommato ci può anche stare, peccato, perché comunque a livello di pericolosità, non siamo stati tanto pericolosi noi, ma di sicuro non la Samp, 0-57, quindi lì c'è stato un gran Gabbiadini, che ha realizzato due gol, uno molto difficile appunto, su palla inattiva, però ancora una volta, gran prestazione da parte di Piafondi, convince lì la tre quarti campo, dove alla fine, era proprio una questione di interpreti, perché nella passata stagione, poche erano le conclusioni, adesso invece sono molte di più, contro squadre addirittura più forti, devo dire che i nuovi, si stanno, si sono subito ben ambientati, cioè ho difficoltà a trovare, diciamo un giocatore che non stia, diciamo rendendo bene, diciamo che questo, può essere un prestito, perché Zazza lo volevamo proprio vendere, e abbiamo proprio lasciato al direttore sportivo dire, fai il possibile per mandarlo via, come poi Zazza avrà poi un ulteriore anno di contratto con noi, può essere un prestito che possa rilanciarlo, magari in questa società riesce a trovare tanti gol, rientra a magari maggiore mercato, e lo si riesce poi a vendere con più facilità. Roma che ha cambiato sicuramente allenatore, non allena più Murigno, 4-2-4, chi l'allena sta Roma? Col 4-2-4, andiamo un po' a vedere, Montella, l'aeroplanino, allora io ho parlato di mentalità equilibrata, ma solo per la prossima partita, le indintese già si sono presentate con Saric Segre, ma per il semplice fatto che hanno giocato insieme anche nella passata stagione, Roma molto offensiva, Roma molto spregiudicata, con una tre quarti campo, bella, Zagnolo, Kluivert la davanti, Abram Di Bala, Paredes, bravo Segre, Lucca, forse in posizione di fuorigioco, e qui la Roma nel duello aereo, se la cava, quindi Spinazzola, avanza, bravo Pafundi, bravo Pafundi che recupera palla, allora Ronaldo Camarà, Bettella, Pafundi, si va, si allarga, per Gallo, che ha campo davanti a sé, può volare Gallo, c'è Lucca in mezzo, Gallo serve Saric, dentro Lucca, De Silvestri, Pafundi, ecco De Silvestri, orizzontale, passaggio alla Zotera per Segre, poi Carboni, Gabbia può calciare, Gabbia, mamma mia, per cettare, sì, bravo Bettella che allontana, poi Lucca, incontro al Pallone, ma ci arriva prima Paredes, Segre questa volta vuoto, Di Bala, e meno male che sbaglia, Di Bala, cerca Abram nello scatto, Gabbia, dorme Abram, Palo, mamma ragazzi, la dormita di Gabbia, ma anche la dormita di Abram, tre minuti di recupero, e finisce qui, 0-0, tra Palermo e Roma, va bene, va bene, mi fa piacere come noi comunque stiamo, concediamo sì, ma, occasioni poco pericolose, diciamo che siamo in realtà stati fortunati, in due occasioni, sia su Di Bala, sia su Abram, perché sia Di Bala che Abram hanno avuto due grandissime occasioni, una nel primo tempo, Abram appunto nel secondo colpendo il palo, però mi piace molto la davanti, la davanti stiamo creando tanto, meritiamo, creiamo comunque occasioni pericolose, cioè, facendo veramente tanto questo Palermo. Come lavora il Palermo? Di solito. Questa appunto è la mappa dei passaggi della nostra ultima partita, che abbiamo giocato con la Roma in casa. Vediamo comunque come questa squadra, praticamente in fase di possesso, rimanga con solamente due centrali dietro, e poi un centrocampo che, anche se non è in linea, ma comunque lo diventa quasi, perché poi abbiamo il lavoro del 17, che è appunto Ronaldo Camarà, del 28, che è Saric, e di Jacopo Segri, dell'8. I due terzini, De Silvestri, un attimino una posizione più arretrata, dove riceve i passaggi rispetto a Gallo, che invece corre molto di più, sale molto di più, ma soprattutto viene coinvolto di più. In quella zona sinistra, veramente con Radonic tante le azioni, tante le triangolazioni appunto che si sono verificate. Lucca ha cercato tantissimo, diciamo che il fatto di avere un attaccante fisico, che sappia comunque lavorare bene, spara la porta, protezione della palla, ti va in aiuto a prescindere comunque dal ruolo, anche se il centravanti diciamo che, magari a differenza di una seconda punta, di un fulco, di una punta completa, si abbassa di meno, però è un ruolo che viene comunque coinvolto abbastanza. Paffundi cercato di meno, se pensiamo a Radonic, ci sono una ventina di palloni meno, giocati da Paffundi, mentalità che è tornata positiva ragazzi, mentalità che è tornata positiva, chiaramente col grifone. Frendrup, la famosa maglia, ecco l'alternative, che ha il Genoa qui su FM. Dragosin va a trovare, a pescare Biraschi, rientrato dal prestito, bravissimo, bravissimo, Gallo, poi un po' meno, poi meno male, che riesce comunque a servire Gabbia, a far ripartire il Palermo, Gallo, Radonic, si accentra, va da solo, poi alla fine, trova finalmente Paffundi, lo scambio, bella l'intesa, con Luca, mamma Lorenzo, Luca, al Barbera, segna sempre, 1-0 Palermo, può andare Gudmonson, direttamente in porta, super pigliacelli, Bettella, andiamo da Saric, poi lo scambio con Luca, Paffundi, può inventare, giocata semplice per De Silvestri, il da e vai, Paffundi Luca, mamma mia che spettacolo, che spettacolo, ancora, Paffundi Luca, Palermo 2-0, attenzione però Paffundi, si è fatto male, infortunio al ginocchio, togliamolo subito, lui vuole restare in campo, lo ringraziamo però, dentro Oscar Bob, e De Silvestri esce, una mossa alla Limoninzaghi, al posto di Pineiro, evitiamo di complicarci la vita, con delle doppie ammunizioni, approfitto, tanto adesso probabilmente il Genoa segnerà, Yeboah, attenzione no, commentiamo poi parliamo, commentiamo poi parliamo, e Yalcin, si divora il gol per il Genoa, Iversen, la rimessa dal fondo, è entrato Elia, e la va a toccare per Bianchi, che gli permette di andare da solo, verso la porta, Flavio Junior Bianchi, il primavera ormai, ex primavera Genoa, riapre la partita, si va da Nedel Cearu, poi gestisce palla a Bettella, rischiandosela, Segre sbaglia Gomez, allora diciamolo che vogliamo pareggiare la sua partita, Nedel Cearu in contrasto, è stato fondamentale il suo lavoro su Yeboah, poi Gallo, Gallo, Nedel Cearu, bello il pallone questo, largo per Radonic, vediamo se va da solo, si fa recuperare da Sabelli, poi Radonici recupera palla, allora questa volta può calciare, ma non trova il gol, però noi come entrate commerciali invece, non siamo messi male, chiaro rimaniamo comunque in una zona bassa della classifica, però comunque superiore a quelli del Verona, dell'Empoli, del Lecce, dello stesso Monza, che pensavo avesse qualche entrata in più, e anche poi dello Spezia, Juve Palermo si comincia, qui davvero non mi aspetto proprio di fare punti, però ad attaccare subito il Palermo, in realtà qua un'azione viene mostrata, per la Juve però, i primi tiri sono stati del Palermo, intanto il pallone in mezzo, Oscar Bob, proviamo a ripartire, tiene palla, non l'allontana, poi decide di andare da solo, ad avanzare, Chiesa lo ferma, non c'è fallo, però si continua a giocare, Pogba intanto che, è già messo male, ma avanza, corre, sta bene, palla per De Sciglio, Locatelli da casa sua, Locatelli da casa sua, sblocca il risultato, Juventus 1, Palermo 0, Euro goal, di Manuel Locatelli, 37esimo, 1 a 0, sempre a favore della Juve, ma un Genoa, l'abitudine, l'abitudine, un Palermo che non se la sta cavando male, cioè non è tutto quel, soffrire contro una grandissima, qui vabbè, la Juve e i gol li fa, ha gli intrapati per poter davvero, fare gol come, come vuole, di testa, di sinistro, raso terra, collo esterno, ogni cosa, però non ce la stiamo cavando male, Kostic, Bremer, orizzontale per Bonucci, poi Rabiot, nuovamente sulla fascia sinistra, dove c'è il subentrato, Pepe, che riesce a superare, senza problemi, P nero, e riesce a superare, senza problemi, anche P gli accelli, complice anche, una parata non perfetta, a parte il nostro portiere, e Pepe, ribattuta facile, Juve 3, Palermo 0, e lo Juve adesso ha spazio sulla destra, perché David Tak, è rimasto troppo in avanti, Zaccaria, di prima per Kostic, controllo a colpetto, dentro per Caio Giorge, e trova, il poker, cala il poker la Juve, col brasiliano, abbiamo, totalizzato comunque, diversi passaggi, nonostante, nonostante tutto, quindi non c'è stato un predominio, da parte della Juventus, non è stato nemmeno, un possesso pallasterile, perché comunque, siamo andati in porta, per 11 volte, abbiamo provato ad effettuare, appunto, 11 conclusioni, di cui 4, nello specchio, e, ci sta, allora, io vi dico ragazzi, possiamo chiuderla qui, e, allora, ciao, Grazie a tutti.